Riflettere sull'importanza della legalità con opere d'arte e prodotti multimediali. Protagonisti, gli alluni di 40 scuole primarie e secondarie abruzzesi che hanno partecipato al concorso Ieri, Oggi e l'Italia di Domani, l'appuntamento centrale della settima giornata regionale della legalità celebrata in Abruzzo il 9 maggio. Obiettivo principale, promuovere la cultura della legalità tra i più giovani, educare i cittadini di domani al rispetto delle regole. Una data scelta non a caso. Il 9 maggio, infatti, si celebra anche la giornata nazionale delle vittime del terrorismo. La giornata regionale della legalità è stata intitolata alla memoria del magistrato abruzzese Emilio Alessandrini, ucciso il 29 gennaio del 1979 da militanti dell'organizzazione comunista Prima Linea. Perché è giusto parlare di questo argomento sempre, ed era giusto avere una giornata della legalità. La regione Abruzzo l'ha istituita questa giornata con legge 40 del 2004, però negli ultimi tre anni c'è stato un grande impulso rispetto a questa giornata. È stata dedicata ad un magistrato eroe, Emilio Alessandrini, un nostro conterraneo, che è morto nell'adempimento del proprio dovere, ed è stata scelta questa data. Il 9 maggio, proprio perché oggi si festeggia la giornata della memoria delle vittime del terrorismo in Italia. Mai scelta è stata più indovinata, perché oggi il Capo dello Stato celebra questa giornata insieme ai figli dei magistrati morti nell'adempimento del proprio dovere. Protagonisti della manifestazione, gli allunni delle 40 scuole abruzzesi. Hanno dovuto riflettere sui principi cardini della Costituzione e sui momenti complessi della storia passata dell'Italia, in particolare la lotta per conquistare i diritti di libertà e politici che hanno portato all'unificazione del Paese nel 1861. Oggi sono stati premiati i vincitori. L'Istituto Compressivo Ciampoli di Attessa, la Scuola Media Antonelli Croce e l'Istituto Tecnico a Cervo di Pescara. Cinque menzioni speciali, di cui due per il Liceo Scientifico Alessandro Volta di Francavilla al Mare, altre tre menzioni per il Liceo Artistico dell'Aquila, il Liceo Ginnasio d'Annunzio e il Liceo Scientifico di Pescara.